Vincenzo, cosa fai oggi? Oggi diciamo che mi ho portato a una radio Ah, si idea a chi è venuta, a te o a qualche amico? A te, a te, a me lo ho scelto questa attività E daglie, daglie vincenzo, sono Massimiliano, sono il tuo video Che culo! Ci vediamo per aria Che culo! Quello è il tuo video grande C'è il mischio, c'è il grande Bella Andiamo al cielo Mi prendi pure un po' la pelata Mi prendi pure un po' la pelata La piccolo La pannata piccolo Che salite addosso Il sesto di cazzo Grazie 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 Grazie! 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 Ah bello! Bellissimo! Allora? Andava bene? Alla bene questo viaggio da Napoli! Allora, alzati pure! Ti sei divertito? Tanto, tanto! Dai che diventerai un paragrafista pure te, se vieni a fare il corso, grande! Bello! Ora ti vado a montare il video, eh! Bello! Vieni qua un attimo, vieni qua un attimo! Grazie! Grazie!